C'è ancora un po' di tempo per la presentazione delle domande per il Servizio Civile Universale. Il termine è stato prorogato e quindi la scadenza è quella delle ore 14 del 20 febbraio 2023. Entro lunedì i giovani, tra i 18 e i 29 anni non compiuti, potranno ancora inviare le domande esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda Online, anche per partecipare alla selezione di 16 operatori volontari nel comune di Caltanissetta per la realizzazione di due progetti, Giro Giro Tondo, per i quali sono previsti quattro posti, e informazione a portata di mano, in questo caso i posti disponibili sono 12, di cui due per giovani con minore opportunità, mentre nell'altro caso viene riservato un solo posto. La durata dei progetti è 12 mesi con un'articolazione settimanale di 25 ore su 5 giorni lavorativi si precisa nell'avviso sul sito del comune. L'assegno mensile previsto ed erogato dal Dipartimento è di 444,30 euro.